Io, Mario, rispetto la tua necessità, la tua volontà di avere un consulente tecnico per fare l'ordinanza, però sforzandomi al massimo non riesco a capire come vai. Allora, il testo unico sull'edilizia, l'articolo 35, dice che qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di permesso a costruire, ovvero in totale operazione di informità del medesimo su suori clienti pubblici, il dirigente, forse noi non ce l'abbiamo, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa di fida non rinnovabile, ordina il responsabile dell'abuso, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. La demolizione è eseguita a cura del comune e la spesa è responsabile dell'abuso. Ora, e mi riferisco al tratto di strada per arrivare alla discarica, siccome ormai... io voglio affrontare tutti e due gli argomenti, mi riferisco al tratto di strada per arrivare alla discarica. Ormai tutti sappiamo che la sistemazione e il ripristino di questa strada non è compresa nel decreto di autorizzazione. L'amministrazione che tu rappresenti non ha autorizzato nessuno a eseguire lavori su questa strada. Voi più di noi sapete che su quella strada sono stati fatti lavori di sbancamento, splateamento, massicciata e in ultimo tombino. Allora, voglio dire, che necessità c'è di nominare un tecnico per dire che cosa? L'articolo parla chiaro. L'articolo parla chiaro. Bisogna fare prima una diffida a chi ha commesso questi abusi, dopodiché dare incarico a un'impresa per ripristinare lo Stato dei luoghi a carico di chi ha commesso l'abuso. Può darsi che mi sbaglio, ma mi sembra che... Scusami, posso concludere? Posso concludere? Io penso che lo stesso provvedimento si può prendere nel tratto di strada compreso nell'area della discarica. Anzi, in quel caso, forse si sono commessi due abusi. Uno per quanto riguarda la realizzazione di lavori abusivi e due occupazione di suolo pubblico, occupazione di strada comunale. Poi, noi del comitato volevamo fare delle proposte all'amministrazione di Scala Cieli oppure al comitato dei sindaci delle proposte per bloccare nell'immediato i lavori della discarica o quantomeno non farli riprendere e proposte per cercare di invalidare l'autorizzazione. Per evitare che Bieco riprenda i lavori un'azione che bisogna intraprendere è il provvedimento amministrativo di cui parlava prima il sindaco ma, secondo me, si può prendere già da stasera non c'è bisogno di aspettare ancora dell'altro tempo perché le cose sono abbastanza chiare. L'altra cosa che, secondo me, è il caso di fare è perseguire la denuncia presente presso la procura di Rossano dove abbiamo elencato tutti gli abusi commessi sulla tratto di strada comunale Capoferro-Cordare Poi, per quanto riguarda le azioni mirate a cercare di invalidare l'autorizzazione regionale io penso che bisogna far presente al dirigente e al responsabile del servizio del Dipartimento Politico dell'Ambiente della Regione Calabria che durante la conferenza dei servizi non si è tenuto conto del fatto che la discarica è stata autorizzata in una zona dove ci sono delle culture biologiche dove ci sono delle culture protette di far presente altresì che nella progettazione dell'Abieco e precisamente nella tavola A3 paragrafo 8.2 l'Abieco sostiene che dopo aver fatto delle ricerche nell'area dove sta nascendo questa discarica non esistono queste coltivazioni biologiche Noi tutti sappiamo che quella zona pullola di agricoltura biologica C'è anche una dichiarazione del Consorso Bruzio di Cariaghi che dice che gli uliveteri cadenti nel Comune di Scalacele e quindi in quella zona rientrano nel doppio Bruzio quindi bisogna far presente alla Regione Calabria e non all'assessore della figura politica al dirigente di servizio al dirigente del Dipartimento che l'autorizzazione è stata rilasciata senza tener conto di questo aspetto aspetto molto importante perché il decreto legislativo 36 del 2003 al paragrafo ubicazione di questo tipo di discariche dice precisamente che bisogna tener conto se in quell'area ci sono o meno queste coltivazioni biologiche altra cosa che non secondo noi è il caso che o il Sindaco di Scalacele o il Comitato dei Sindaci intraprendono è quella di perseguire presso la procura di Catanzaro la denuncia che noi abbiamo presentato per quanto riguarda l'intero ITER che ha portato all'autorizzazione regionale della discarica compreso questo problema che diceva la signora di Rea c'era la rea che c'era non c'era forse è limitato non più la denuncia loro ma no nella nostra la denuncia che abbiamo fatto noi riguarda contenuti reali tipo praticamente per esempio la denuncia di un certificato di sistemazione compagno che non è concorso ma questa denuncia si riferisce anche all'aspetto procedurale della regione Calabria il parello che il parello si allora una delle tante c'è scritto c'è scritto anche scusami c'è scritto anche abbiamo messo anche in questa denuncia si chiedevamo anzi chiedevamo a chi l'abbiamo consegnato al giudice come mai l'ufficio via ha accettato prima la delibera comunale di Scalacere del 3 luglio 2009 in cui si negava c'è questo aspetto c'è c'è anche questo aspetto e poi come mai lo stesso ufficio via in seguito alle contraddizioni della BIE ha ritenuto quella delibera politica e ha dato il pre-repositivo noi abbiamo elingato tutto il nostro punto di vista il nostro cioè quello che noi stiamo facendo come comitato è una battaglia contro la discarica non contro l'operato di qualcuno che sia chiaro Mario ho capito che hai fatto l'esposto denuncia chiudo ho capito che hai fatto l'esposto denuncia e ne parlavamo prima con il sindaco di Mandatoricci a mio avviso è stata forse superficiale l'annullamento l'archiviazione di questa denuncia però secondo me pur sbagliando chi ha disposto l'archiviazione di questa denuncia ha scritto chiaramente che per quanto riguarda per quanto riguarda la problematica di scarica è già oggetto di una denuncia depositata a Catanzaro per quanto riguarda la problematica strada c'è aperto un altro fascicolo il famoso 31-22 che oggi è a Rossano e chiediamo ancora una volta al comitato dei sindaci di interessarsi di questo fascicolo depositato a Rossano e dell'altro fascicolo depositato a Catanzaro grazie grazie